musica 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 non lo so ah hanno cacciato il tiro ahah l'hanno cacciato si si è vero vero ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto proprio merda non c'è proprio mamma non c'è tutto vado stupinando con 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 aggiornato oddio e guarda ragazzi cosa vede l'altro gioco? che fatto? ma chi è qui? posso non so cinque volte tanto ok 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 non c'è non c'è vai go non c'è attenzione abbiamo piazzato la carica un bug mamma mia bellissima bellissima non c'è un bug 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 la madre adesso si siamo non c'è un bug non c'è un bug non c'è un bug sengono sa il è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.